Siamo di fronte al grimaldello di una privatizzazione di questo che è il sistema del welfare. Noi abbiamo espresso una profonda diversità di impostazioni a partire dalla discussione che abbiamo fatto alla Camera. Vediamo che c'è stato anche un cambiamento al Senato, ma tuttavia ancora rimane aperta una deriva commerciale impressa al terzo settore, in particolare utilizzando la disciplina sull'impesa sociale che rappresenta davvero la novità più insidiosa. Quindi oggi diciamo con l'articolo 6, con il nostro voto contro l'articolo 6, diciamo no al rischio di introdurre logiche di mercato all'interno dei servizi del welfare che sono già pienamente colpiti dai tagli, che mettono in discussione la protezione sociale e introducono attraverso questa nuova disciplina un ulteriore passo di privatizzazione e commercializzazione. Grazie, è scritta a parlare un'ora di Grillo, ne ha facoltà. Sì, Presidente, anche il Movimento 5 Stelle, anche noi con fatica, riprendendo il collega Palmieri, votiamo no, ma la fatica deriva dall'impegno che abbiamo messo come forza politica e ci autoincenziamo con la grande onestà intellettuale con cui abbiamo affrontato questo provvedimento fin dall'inizio e con la seria e sincera voglia di collaborare nell'interesse comune della società tutta, anche con le forze di maggioranza. Il nostro lavoro, in parte, in prima lettura, è stato minimamente valorizzato. Purtroppo questa seconda lettura alla Camera è stata una violenza becera e veramente di bassissimo livello che ha imposto il passaggio blindato del testo senza poterlo discutere per giunta con degli infidi peggioramenti introdotti al Senato, subitaneamente anche lì con modalità veramente ai limiti della decenza democratica, questa la ripeterò perché mi piace. E quindi voteremo contro, voteremo contro perché nessuno dei miglioramenti che noi vi abbiamo proposto è stato minimamente affrontato poi nel merito perché sul prioritariamente non abbiamo avuto una risposta nel merito. Sull'uso dell'autorità garante per la concorrenza sul mercato per valutare l'impatto sociale non abbiamo avuto una risposta nel merito. C'è stato semplicemente detto che sarebbe stato il Ministero del Lavoro ad occuparsene quando già il Ministero del Lavoro dovrà fare tantissime altre cose per giunta in condizioni di parità di risorse e quando non è un compito di valutare una concorrenza eventualmente sleale del Ministero del Lavoro. Voteremo contro perché quando vi abbiamo chiesto di mettere dei limiti, di individuare i limiti per lo svolgimento di attività commerciali c'è stato risposto che l'articolo 4 era prevista in maniera, certo questa è già una delega, quindi in maniera ancora superficiale la presenza di questi limiti delle attività commerciali delle imprese. Voteremo contro perché avete bocciato tutti gli emendamenti in cui limitavamo gli utili che potevano essere distribuiti con finalità di lucro e anche qua non abbiamo avuto risposte nel merito. Quindi noi, il Movimento 5 Stelle, come al solito, ha la coscienza in pace. abbiamo lavorato nell'interesse dei cittadini, certamente questo non ci basta, per cui lavoreremo in altri modi e in altre sedi, però purtroppo, come su tutte le altre cose, avevamo sempre ragione, aspetteremo anche in questo caso, come si dice che si aspetta il morto che passa nel fiume, noi avremo la pazienza di aspettare e di vedere che anche lì, purtroppo, avremo ragione. Dico purtroppo perché qua gli unici perdenti alla fine non siamo né voi né noi, ma sono sempre e solo i cittadini ignari di tutto quello che succede qua dentro, visto che il mainstream non si occupa mai degli argomenti che vengono, anche perché è un po' difficile, poverini, spesso per i giornalisti che fanno un articolo in tre secondi, magari leggendo un'agenzia di stampa, andarsi a studiare dieci articoli di una delega, forse alcuni non sanno neanche cos'è una delega. Quindi gli unici, purtroppo, che perdono veramente in tutto questo giochino che si sta tenendo qua dentro, per noi sono i cittadini, ma convintamente continueremo a difendere i loro interessi anche di fronte alla vostra ottusa, cieca deriva antidemocratica. Grazie. Grazie. Pongo in votazione l'articolo 6. La votazione è aperta. Stiamo votando l'articolo 6. Abbiamo votato tutti? C'è qualcuno che non sta votando? Non mi pare. La votazione è chiusa. Presenti 330, votanti 306.